Sono sette i comuni che insistono sulla storica via lauretana da Siena a Cortona. Tutti insieme hanno voluto realizzare una guida sui cammini dell'antica via etrusca che collegava Cortona alle città della costa. È un'occasione importante proprio perché in questo momento la fa da padrone il turismo attivo. C'è una ricerca forte di itinerari all'aria aperta da percorrere a piedi e in biciletta. L'attenzione che i comuni del nostro territorio hanno nei confronti della via francigena e della via lauretana è molto forte, è nata in tempi non sospetti e va oltre i territori delle singole amministrazioni. Ma cosa contiene esattamente la guida pubblicata da Betti Editrice e già in vendita nelle librerie e online? È una guida che ha dei consigli utili per coloro che vogliono fare questo percorso che non è necessario fare tutto insieme. Si può fare anche per tappe, ci si può dedicare alcuni giorni e poi ritornarci magari dopo qualche mese o l'anno successivo per gustare le bellezze architettoniche e artistiche ma anche le ottime eccellenze enogastronomiche del nostro territorio.